Ciao a tutti, oggi vi porto con me nella mia vita da musicista. Sabato scorso si è infatti tenuto il matrimonio di Ciro e Raffaella, due ragazzi che mi hanno conosciuta su YouTube e mi hanno invitato a cantare al loro evento. Io e i miei colleghi siamo partiti alle 6 e mezza da Roma e siamo arrivati al Castello Giusso, una location incantevole davanti al Golfo di Napoli. Appena arrivati abbiamo dato un'occhiata alla location, che ve lo dico a fare, una cosa incantevole, stupenda. Abbiamo subito iniziato a montare la strumentazione nei due posti dove avremmo cantato, prima in piscina durante l'aperitivo e poi sul terrazzo durante il pranzo. Una volta montato di Corsa in Chiesa, dove ho cantato 5 canzoni, tra cui Red Swan da Attack on Titan, perché non ve l'ho detto, ma questo evento a livello musicale è stato tutto dedicato ai cartoni animati. Tutti i momenti principali infatti sono stati caratterizzati da una delle opening in italiano di Attack on Titan, anche se poi ovviamente non sono mancati momenti di musica leggera, di musica moderna e anche dei balli di gruppo. Grazie. 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 Signorine che siete in attesa, signorine che sperate nell'uomo che si ginocchia, signorine che sperate di diventare signore. Ragazzi, ma quanto è bello fare il lavoro che si ama e soprattutto quanto è bello rendere felici gli altri tramite la propria voce. Io sono tanto orgogliosa di aver fatto questo evento e auguro a Ciro e Raffaella tutta la felicità del mondo. Vi ringrazio per aver creduto in me e vi porterò presto a tanti altri eventi. Un bacio.